Grazie a tutti. Non lo so, certi umani preferiscono pestare le persone che non capiscono. Come tu preferisci pestare le formiche? Forse non riflettevo su quello che stavo facendo, mi succede molto spesso. Ti puoi presentare? Presentarmi? E cerca di essere convincente perché hai solo 5 minuti. D'accordo, convincente, va bene, va bene. Grazie per l'onore ma secondo me è meglio che io lasci il posto a uno di voi. Sì, insomma siete molto più grandi e forti di me. Il tuo cuore è la più forte delle armi. Va bene. Congratulazioni Arthur, è stato un matrimonio magnifico. Davvero uno dei più belli a cui abbia mai assistito. Emozionante, chiaro, conciso e veloce. Sì, troppo veloce. Oh no no, hai avuto le cose più importanti, la sua mano e il suo cuore. Che vuoi di più? Ma non lo so, forse una festa, qualcos'altro. Signore, voi siete poco galante e manchevole. In cosa sono manchevole? Sei solo un bambino. Papà, voglio uno scogliattolo. Prendimi uno di quegli scogliattoli, ne voglio uno. Veruca cara, hai già molti magnifici animaletti. Tutto quello che ho è solo un pony, due cani, quattro gatti, sei conigli, due cocorite, tre canarini, un pappagallo, una tartaruga e uno sciocco vecchio criceto. Io voglio uno scogliattolo. D'accordo, piccola, papà ti comprerà uno scogliattolo. Ma io non voglio uno scogliattolo qualsiasi, voglio uno scogliattolo addistrato. E va bene. Se non vuoi prendermelo tu, me lo prenderò io da sola. E' te che voglio. Guardalo bene, Abu. Non si incontra tutti i giorni un asino su un cavallo. Ehi. Che cosa vuoi? Togliti quel vestito. Maledetta, perché mi hai colpito? Sei un pervertito. Non ti ho chiesto di spogliarti, stupida. Voglio solo che tu ti rimetta quello strano kimono che porti di solito. Io non mi fido mai di nessuno. Sono sempre riuscito a vivere solo in questo modo. Non hai alcun diritto di criticarmi per questo. Zitta. Hai sentito qualcosa? No. Voglio solo che tu stia zitta. Non pensavo che tu fossi... Che fossi... È noto che il giorno d'oggi è un fenomeno sempre più diffuso, però... Che cosa hai capito? Io amo le ragazze più di qualunque altra cosa. Sei famosa tra i ragazzi per essere carina. Ma guardarti da vicino non sei poi un greco. Vittoria! Si arrendono! Dandazione! Avrei dovuto chiedere molto di più. Come prima cosa un po' di marmellata locale decente. Oh beh, alla prossima! No. Errore. La scelta è solo un'illusione creata e posta tra chi ha potere e chi non ne ha. Il tuo errore più grande non è stato non riuscire a trovare una risposta. Se fai le domande sbagliate non troverai mai la risposta giusta. A me sembra un accordo tutto sommato ragionevole. Conosci l'espressione non avere nulla. Non avere legami. Non essere schiavo di nessuno. Vivi semplicemente per la tua vita. È l'unico insegnamento che mi è stato trasmesso dal mio predeceso. L'unico motivo per cui sei ancora in vita è che trovo la tua stupidità lievemente divertente. Perché qualcuno raggiunge l'orgasmo nelle tue immediate vicinanze? Stai con un problematico. Bestiale. Stupidotto io direi. Dovrei avere una relazione. Non sarebbe divertente? Esilarante. Grazie per avermi permesso di confidarmi con te. Santo di poter condividere tutto con te. Non lo pensi anche tu? La colpa dovrebbe ricadere su di me. Caro, non è un problema. Se ti ho fatto credere che c'era qualcosa tra noi, è stato puramente per informarmi del caso di proteggere il mio marito. Potrai perdonarmi. Ne abbiamo già discusso. E niente rimanerebbe. Non ti accorgerai nemmeno che c'è lo ferro e gloria. Certo, perché non proverai pena per lui e non lo libererai? Dentro carne. Ricordi. E non sei il tuo lavatore. Oh, io lo ricordo molto bene. Ti viene in mente? Avventurarti nel vostro di notte da solo? E se ti fosse accaduto qualcosa? Non farmi mai più uno scherzo del genere, ora. Ho avuto tanta paura che devo di aver finito il suo. Grazie. 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 Grazie.